Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video e oggi vorrei vedere una sorpresa, è questa Wow, uovo di pasqua regalato da mia zia, lindo Non è troppo bello da aprire, è troppo bello da aprire No ragazzi, questo uovo di pasqua è troppo bello da aprire, però lo devo fare Devo aprire perché adesso sono delle quattro windows, adesso lo aprirò in live insieme a voi Mettete le camera qua Ok, ora lo apro, è troppo forte, non posso non aprire Ok, levo l'accesso Ragazzi, mi sto soffrendo, me lo aprivo Sto molto tolato lo spello Dove lo faccio da vedere, è la Wow, guardate dentro, guardate dentro com'è Ecco, abbiamo Come dire? Dentro di qualcosa, lo spaccherò Non so, non so spaccare Non so spaccare Devo spaccare in tutto Non so, veramente, veramente Aspettate per un coltello Guardate questa cosa cosa Ecco Wow Questa cosa verde La cosa che può essere anche la riuscire Andiamo con tutto il dentro Guarda cosa verde Che carino Guardate Guardate se riuscite a vedere Quattro cioccolatini linda che manderemo dopo Ok Proviamo un pezzo, ok Oh che buono È stato e buono isti È be Playing Beh E' niente Sovici con cui dico Ciao